Appena nata assalta l'alleanza in Europa tra Alde, il gruppo dei liberali e democratici e il Movimento 5 Stelle. Lo stop dopo che sul blog di Grillo l'adesione era stata sostenuta dal 78% degli iscritti al Movimento. Rimangono differenze fondamentali sulle questioni europee chiave, ha detto il leader di Alde, Ferofstadt. Primo test sulle banche per il governo Gentiloni. Oggi Camera e Senato discuteranno la richiesta delle opposizioni di accelerare sull'istituzione di una commissione di inchiesta sulle crisi bancarie e sul salvataggio pubblico di Monte dei Paschi. Il governo intanto apre la lista dei grandi debitori dell'istituto di credito senese. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sfidando la legge contro il nepotismo, ha nominato il giovane genero Kushner, marito della figlia Ivanka, consigliere senior per accordi commerciali e il Medio Oriente. Secondo il Transition Team è stato superato il conflitto di interessi del giovane imprenditore. I carabinieri del NAS sono stati inviati dal ministro della Salute Lorenzin all'ospedale di Nola, in Campania, dove alcuni pazienti del pronto soccorso sono stati curati a terra in assenza di letti e barelle. Sospesi tre dirigenti, il presidente della regione Campania, De Luca, ha chiesto il loro licenziamento. 7.32, buongiorno, benvenuti alle telegiornali. Allora, questa mattina intorno alle 10 dovrebbe esserci una riunione degli europarlamentari del Movimento 5 Stelle per decidere il da farsi. Perché al momento sono esattamente a metà del guado, non più nel gruppo con Farage, non più e non mai, perché non ci sono in realtà mai entrati, nell'Alde di Ferovstadt. È uno degli effetti del colpo di scena avvenuto ieri sera. L'altro effetto lo vedremo probabilmente fra una settimana, perché il leader di Alde, Ferovstadt, ex premier belga, fra l'altro si era candidato come presidente del Parlamento europeo, ma dopo questo scivolone evidentemente le sue chance sono decisamente diminuite. E quindi restano in lizza due italiani, Gianni Pittella e Antonio Tajani. Se fosse una pièce teatrale si potrebbe parlare di un colpo di scena? Si tratta del clamoroso incidente di percorso che fa saltare il piano di Grillo che prevedeva la rottura dell'alleanza con l'euroscettico Farage dell'Ukip per una nuova intesa con i liberali dell'Alde, approvata anche dalla base del Piantastellati. Ma 5 euro dopo, dalla chiusura della consultazione vittoriosa sul web, arriva la notizia clamorosa. Il presidente dell'Alde, Guy Werrostat, si rimangia il patto siglato con Grillo e dice «No, questa unione non si può fare e il Movimento 5 Stelle resta spiazzato». Ecco i fatti. Il 4 gennaio scorso Beppe Grillo, Davide Casaleggio e il belga Guy Werrostat, capo dei liberali democratici, sottoscrivono in gran segreto un accordo al fine di perfezionare un'intesa, ma la strada è subito in salita. Infatti in tanti, anche all'interno del Movimento, fanno notare le strane nozze tra chi è favorevole all'Europa e chi è anti, o almeno molto critico, come appunto i grillini. Ma Grillo assicura «Avremo libertà di voto» e così a quel punto arriva il sondaggio sul web. Gli iscritti sono chiamati a ratificare oppure a bocciare l'accordo? Quasi l'80% dice sì. Sembra il definitivo via libera per la nuova aerostrategia dei 5 Stelle, ma alle 17 di ieri arriva dietro front di Werrostat e il motivo sta nelle fortissime resistenze registrate nel suo gruppo, che si oppone all'ingresso dei grillini. Grillo ne prende atto così. L'establishment ha deciso di fermare l'ingresso del Movimento, tutte le forze possibili si sono mosse contro di noi, abbiamo fatto tremare il sistema, come mai prima. E Di Battista, 8 e mezzo, aggiunge «Quello che io noto è che il Movimento 5 Stelle in Italia e in Europa viene percepito come un corpo estraneo. Scatenati invece tutti gli altri partiti, attaccano il passo falso di Grillo e irridono al nuovo corso. Il Movimento 5 Stelle rincorre le poltrone, dicono dal PD. Per Salvini si tratta di schiaffo, testa coda, figura ridicola. Meloni, fratelli d'Italia, parla di Grillo come un Mario Monti qualsiasi. Escotto, sinistra italiana, denuncia la scelta utilitaristica e la scarsa credibilità del Movimento, ma attacca anche Forza Italia, che con un tweet scrive «Grillismo e liberalismo sono incompatibili». Alde ha fatto bene a chiudere la porta a Grillo. Partiti che oggi sono impegnati alla Camera e al Senato in una questione delicatissima ormai per il nostro Paese, ovvero la questione delle banche. Alla Camera si discutono le emozioni sulla crisi delle banche, compresa quella di Forza Italia, che chiede una commissione bicamerale di inchiesta, con gli stessi poteri della magistratura, sul crack di MPS, ma anche su quelli di Banca Etruria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara, proposta che è un atto d'accusa per il governo Renzi, che trova consenze nelle opposizioni, non nella maggioranza. Ma oggi si occuperà della crisi delle banche anche il Senato, dove inizia il percorso parlamentare per la conversione, il decreto salva risparmio, che stanzia le risorse per il salvataggio di MPS. Anche a Palazzo Madama si riscuterà di una commissione di inchiesta, quella prevista da un disegno di legge dei Cinque Stelle sul crack del Monte dei Paschi di Siena. I pentastellati chiedono di accelerare l'iter. In ogni caso l'orizzonte per la commissione sarebbe quello limitato e incerto del termine della legislatura. Il governo frena. Meglio una commissione di indagine per approfondire il fenomeno e che non interferisca con le inchieste della magistratura, avverte il sottosegretario all'economia, Pierpaolo Baretta. Ma a tenere banco è ancora la vicenda dei grandi prestiti concessi da MPS ai debitori eccellenti, che non li hanno restituiti, determinando il dissesto. La proposta del presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, di pubblicare la lista dei nomi fa discutere. Il garante per la privacy, Antonello Soro, ricorda che per le imprese non ci sono problemi, ma che i nomi dei cittadini debitori sono tutelati dalle norme europee sulla riservatezza. Alcuni dei nomi dei grandi debitori delle banche fallite, intanto, sono già sulle pagine dei giornali, che ricordano il maxiprestito concesso da MPS alla Sorgenia, Società Energia in difficoltà del gruppo De Benedetti, ma anche alla tassara del finanziere Romanzaleschi, al gruppo Marcegaglia, ai costruttori Fiorentini Fusi e Bertolomei, a quello Romano Toti, all'immobiliarista Zunino, travolto dal crack. Parliamo di lavoro, o meglio dei dati, che fornisce l'Istat sul lavoro, quello giovanile, quello che soffre di più, se sia colpa del fatto che si va in pensione sempre più tardi o se sia colpa del Jobs Act, non è però così chiaro. Un paese sempre meno per giovani, dove il posto di lavoro è sempre più una chimera. A dirlo è l'ennesimo rapporto dell'Istat, che mette nero su bianco le difficoltà che gli italiani vivono tutti i giorni, un mercato del lavoro al collasso dove anche le misure pensate per dare vigore ad un sistema sfittico come gli incentive e alle assunzioni stabili non hanno dato i risultati sperati. Il tasso di disoccupazione, dice l'Istat, si attesta a novembre all'11,9%, in aumento sul mese precedente di 0,2 punti percentuali e il livello più alto da un anno e mezzo. Il numero dei disoccupati supera ampiamente quota 3 milioni, nonostante ci siano 19 mila occupati in più. Ma quest'ultima cifra che riguarda principalmente le donne e gli ultracinquantenni andando a guardare bene, non è del tutto positiva. Dice l'Istat, a causa della stretta sull'accesso alle pensioni si lavora più a lungo e così la domanda da parte dell'azienda non aumenta abbastanza da assorbire nuove entrate nel mercato del lavoro. Insomma non si creano nuovi posti, i genitori tolgono il lavoro ai figli. Eccolo allora il dato sulla disoccupazione giovanile 39,4%, addirittura più 1,8% a novembre su ottobre in un solo mese, nonostante gli inattivi, ossia quelli che un lavoro nemmeno lo cercano, siano in diminuzione. La disoccupazione giovanile, che nell'area euro è al 21,2%, ci colloca al terzo posto dopo Grecia e Spagna, un podio del quale non ci si può vantare. E nella fascia di età ancora più bassa, ossia tra i 25 e i 34 anni, siamo quasi al 60% di disoccupati a pagare il prezzo più alto, insomma, sono ancora i giovani. Guardando ancora l'Europa, la disoccupazione in salita all'11,9% è in controtendenza con gli altri paesi dell'Unione, dove mediamente a novembre invece è scesa al 9,8%. Peggio di noi hanno fatto soltanto Grecia, Spagna e Cipro. Polemiche in queste ultime ore per lo stato delle scuole, soprattutto della capitale, ma non solo rimaste al freddo, ma se si può rimediare in quel caso con un piumino e una coperta, invece è molto molto più complicata la situazione di chi vive nelle zone terremotate. Le nostre produzioni sono ferme ad agosto, siamo allo stremo, temiamo per la sopravvivenza dei nostri animali. È il grido di dolore che si alza dagli allevatori di Amatrice e Accumoli, un allarme rilanciato nei giorni del freddo più intenso, che potrebbe mettere a repentaglio attività agricole e allevamenti. Una situazione critica soprattutto per il bestiame, risorsa su cui si basano le attività economiche compromesse dal sisma del 24 agosto. Un'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione Errani, diretta alla Regione, che risale al 28 novembre scorso, prevedeva la realizzazione delle tensostrutture, ma su oltre 50 stalle mobili promesse è stata in pratica avviata la realizzazione soltanto della metà. Strutture ancora incomplete e che risultano insufficienti per affrontare l'emergenza. In tempi normali i ritardi sono tollerati, ma qui è come se fossimo in guerra. Ogni rinvio significa morte civile e morale delle persone, ha detto il sindaco di Amatrice Pirozzi. E far ripartire le attività è la priorità assoluta per un territorio che cerca con grande fatica di rialzarsi, ha aggiunto. Lasciando intendere che forse era meglio spacchettare e suddividere i lavori invece di ricorrere ad un'unica gara per l'assegnazione degli appalti. Risultata fin qui farraginosa con la ditta incaricata che non è stata, secondo il sindaco, in grado di rispettare i tempi. Messaggio raccolto dal ministro Martina, che soltanto pochi giorni fa aveva visitato la zona e oggi a Dancona con lo stesso Errani cercherà di mettere a punto misure per velocizzare le procedure burocratiche. Negli Stati Uniti adesso, dove Trump attacca Meryl Streep, che ne aveva parlato in termini sicuramente non entusiasti alla cerimonia dei Golden Globe, e poi decide, abbastanza sorpresa anche se in realtà qualche indiscrizione c'era stata, di nominare il genero nel suo staff. Ci sarà la conferenza stampa di addio oggi da Chicago di Obama, domani inizia l'era Trump. Alla faccia del nepotismo. Mentre il mondo ancora si interroga sui conflitti di interesse del neopresidente Donald Trump, che devono essere sanati, lui alza la posta e stupisce tutti ancora una volta. Ha nominato infatti come consigliere senior niente meno che suo genero, il marito della figlia prediletta Ivanka. Jerry Kushner, classe 1981, ricco e influente imprenditore del New Jersey, nonché editore del New York Observer e vero stratega della vittoria elettorale di Trump, si occuperà proprio di accordi commerciali e di Medio Oriente. Ma non ci sarà rischio di decisioni interessate, assicurano dallo staff di Trump. Kushner ha già annunciato che si libererà quanto prima di tutte le cariche più delicate e ingombranti. Per quanto riguarda poi la violazione della legge contro il nepotismo, approvata dal congresso nel 67, dopo che il democratico Kennedy nominò il fratello Bob, ministro della giustizia, non ci sarebbero problemi. Secondo un legale di Kushner la normativa non si applica alla Casa Bianca. Vedremo quel che è certo è che la nomina non arriva così inaspettata. Già lo scorso novembre, durante la visita del premier giapponese Shinzo Abe, Kushner era apparso in prima fila, in barba a tutti i protocolli di sicurezza, con a fianco persino la moglie Ivanka, che invece è stato annunciato, non ricoprerà nessun incarico ufficiale, si occuperà solo di figli. E i frutti dell'annunciata politica economica concertata proprio con Kushner, Trump li sta già raccogliendo, ancora prima di insediarsi. La Toyota, che voleva delocalizzare in Messico la sua produzione, ha appena annunciato che investirà 10 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi cinque anni, così come faranno General Motors e Ford, nonché la Fiat Chrysler amministrata da Marchionne, che puntualmente sono state ringraziate dal neopresidente alla sua maniera, su Twitter. Riapre, l'ambasciata italiana a Tripoli è uno dei punti dell'accordo stretto fra il nostro paese e il governo di Serraji, specifichiamo il governo di Serraji, perché come sapete la Libia è tutt'altro che unificata. Una nuova ambasciata italiana a Tripoli è l'accordo in più punti con la Libia su migranti, petrolio e terrorismo, prove per una nuova fase di collaborazione tra Italia e Libia. Il ministro dell'interno Marco Minniti ieri ha incontrato il premier Serraji a Tripoli, poche ore per ragioni di sicurezza ma necessarie a strappare un progetto di memorandum d'intesa che tocca soprattutto il cuore del problema immigrazione. Perché dalla Libia, territorio dilaniato dagli scontri con le milizie che parte il 90% dei barconi di migranti che arrivano sulle nostre coste, e il primo punto dell'intesa è proprio il contrasto ai trafficanti di uomini che passa dal rafforzamento delle entità statali del paese africano. Altra questione sul tavolo è la cooperazione antiterrorismo. Per creare tutte le condizioni per evitare un ritorno di terroristi e foreign fighter verso i nostri territori, il premier Libico non ha il controllo totale del suo paese e non riesce a garantirne la sicurezza. L'Italia, ha detto il ministro dell'interno, si impegna sulla sicurezza della Libia e non è solo quella dal terrorismo e dalla criminalità. Vogliamo contribuire a rafforzare la sicurezza economica e sociale del paese. Un aiuto è stato sollecitato anche per la protezione dei confini meridionali, migliaia di chilometri di deserto attraversati dagli sperati dell'Africa subsahariana. A suggellare formalmente il sudalizio tra Italia e Libia è la riapertura oggi dell'ambasciata a Tripoli, secondo fonti della Farnesina. Martedì è previsto che l'ambasciatore designato, Giuseppe Perrone, presenti le sue credenziali al governo libico. L'ambasciata italiana, aggiungono le stesse fonti, sarà la prima ad operare in modo continuativo nella capitale libica. Succede a Nola, nella notte fra sabato e domenica scorsa, 500 persone arrivano al pronto soccorso di un ospedale che però ha solo 100 letti. Il risultato è che molte persone vengono curate addirittura per terra. Che cosa avrebbero dovuto fare i medici? Mandarli via o comportarsi diversamente, secondo il presidente della regione Campania, Campana De Luca, dovevano comportarsi diversamente, tant'è che ne ha chiesto addirittura il licenziamento. È il giorno delle indagini de Nassa all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. I carabinieri inviati dal ministro della Salute Lorenzin girano, fotocopiano documenti, interrogano i responsabili. Parlano anche con il direttore sanitario Andreo De Stefano, che il governatore della Campania De Luca vorrebbe licenziare. Per ore i dirigenti sono stati sospesi. È il giorno dopo il grande scandalo. A scatenarlo queste immagini di due donne curate dai sanitari sul pavimento del pronto soccorso, non c'è altro posto per sistemarle. Occupate le 17 barelle disponibili, comprese le due requisite all'ambulanza. Occupate tutte le sedie a rotelle. Una paziente è stata persino ricoverata in una delle due sale operatorie, mentre l'altra veniva utilizzata per un'operazione urgente. Rimaneva solo il pavimento per le due signore. Una in piena crisi anafilattica, l'altra tormentata dai conati di vomito. Sempre sabato notte. Un sabato notte di emergenze, con due uomini morti di infarto appena arrivati in ospedale, con le strade gelate che hanno convogliato a Nola malati di vari comuni vicini. Il picco delle influenze si è sommato alle patologie varie. Rimane un quadro generale allarmante, dove in un comune di 300.000 abitanti c'è solo un ospedale con 107 posti letto, dove le barelle, ordinate da tempo, non arrivano. Le camere operatorie sono ingolfate e i medici, eroi dei nostri tempi, li chiama il dirigente sanitario, si comportano come in un ospedale da campo. Accettano di curare anche in ginocchio, su una coperta. Ricordiamo la morte di Zygmunt Bauman in Inghilterra. Il filosofo era nato a Pozman in Polonia 91 anni fa, di famiglia ebrea. Si rifugiò nell'Unione Sovietica dopo l'invasione nazista, e però di formazione marxista studiò il rapporto fra modernità e totalitarismo, con particolare riferimento alla Shoah e al passaggio dalla cultura moderna, a quella post-moderna, tra le opere successive tradotte in italiano, amore liquido sulla fragilità dei legami affettivi, la solitudine del cittadino globale e stranieri alle porte. Adesso vi dobbiamo dare notizia di un terremoto di forte intensità, la magnitudo 7.2 della Scala Ritter, che ha colpito le Filippine, ma anche la Cina del Sud, stanno battendo adesso le agenzie la notizia, non si ha al momento notizia di maremoti, ma evidentemente forse è ancora presto per stabilirlo, vedremo nelle prossime edizioni. Intanto noi siamo in chiusura e quindi parliamo di sport, e parliamo del miglior calciatore del mondo, ma anche del miglior allenatore del mondo. Il venire è Claudio Ranieri. È la celebrazione di una carriera, ma soprattutto la certificazione di un trionfo, quello di Claudio Ranieri, che ha davvero avuto poco di casuale, a dispetto di quei bookmaker che davano la vittoria del Leicester, possibile tanto quanto l'emersione del mostro dal lago scozzese di Loch Ness. Il premio FIFA di miglior allenatore 2016, un vero e proprio Oscar delle panchine, consegnatogli da un Diego Armando Maradona, riappacificatosi con l'establishment del calcio mondiale, porta Claudio Ranieri definitivamente nell'Olimpo dei tecnici. Il manager del Leicester dei Miracoli è infatti prevalso con il 22,6% delle preferenze su due campioni d'Europa, uno con il Real Madrid, Zidane, l'altro, Fernando Santos, re della rassegna continentale a squadre con il Portogallo. Sono pazzo di felicità, ha commentato il tecnico romano. Il dio del calcio ha deciso che l'anno scorso dovevamo vincere noi e in Inghilterra è successo qualcosa di incredibile. Se Ranieri ha rappresentato il mito del self-made trainer, arrivato in cima al mondo con ostinazione e umiltà tra lo scetticismo generale, per Cristiano Ronaldo il riconoscimento è stato poco più di una formalità. Il quattro volte pallone d'oro ha trionfato incontestabilmente dall'alto dei successi con il club e la nazionale. E forse anche per questo ha fatto rumore la mancata presenza, ufficialmente per motivi di impegni lavorativi, dell'intera delegazione del Barcellona con Leo Messi grande assente e la FIFA non poco indispettita. Tra gli altri premi spica quello per il fair play assegnato al Nacional de Medellín, che ha consegnato il titolo della Coppa Sudamericana ai superstiti della squadra della Ciapecoense decimata nell'incidente aereo, e quello per il gol più bello del 2016, per una volta assegnato a un vero carneade. Lo sconosciuto malese Maud Faiz Subri del Penang ha vinto il premio Puskas per il gol più bello dell'anno, ottenuto calciando una punizione dall'incredibile effetto, che gli ha fruttato quasi il 60% dei voti. Bene, sono le 7.51, Paolo Sottocorona è pronto per darci tutti gli aggiornamenti sul meteo, Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus e noi invece ritorniamo domani mattina a partire dalle 7. Passate una buona giornata. Passate una buona giornata.